Insieme per bruciare il virus, Busto Arsizio e Gallarate hanno unito le loro tradizioni per celebrare la Gebbia, festa particolarmente sentita e attesa da grandi e piccoli nel basso Varesotto. I sindaci delle due città, Emanuele Antonelli e Andrea Cassani, si sono scambiati gli inviti all'accensione dei falò e insieme hanno partecipato ad entrambi gli eventi. Meglio due roghi che uno per bruciare questo maledetto virus, quindi quando Andrea mi ha chiamato per propormi questa cosa ho accettato volentieri, è stato da me a Busto e adesso sono qua io e niente, siamo qua perché è una tradizione consolidata, i nostri cittadini la vogliono e in più la vogliamo anche noi perché siamo stufi di questo virus, siamo stufi di questo anno che è stato veramente, non c'è un termine per definirlo. Abbiamo bisogno di bruciare i guai, bruciando la Gebbia per noi si bruciano i guai dell'inverno, speriamo veramente di bruciare questo maledetto virus. Abbiamo deciso di fare appunto questo ritrovo, io a Busto e lui qui a Gallarate per festeggiare insieme, insomma bruciare due Gebbia a posto di una. Sono stato a Busto Arsizio, è la prima volta, ne ho sentito parlare parecchio, adesso ha visto anche Emanuele la nostra Gebbia che è decisamente più grande da loro quest'anno e quindi non vediamo l'ora di bruciare anche questa per scacciare il male dei gallaratesi. A Gallarate, attorno alla vecchina da bruciare posizionata all'oratorio di Arnate, sono stati distribuiti dei colorati scatoloni contenenti i bigliettini su cui i piccoli delle scuole hanno scritto i loro desideri. Ci sono tanti disegni, tanti dolori, tante paure dei nostri ragazzi, dei nostri figli e insomma brucieremo anche questo insieme alla vecchia. Tutte le scuole hanno portato gli scatoloni e con dentro tutti i pensieri e i disegni dei ragazzi, quindi un bel modo anche per esorcizzare le cose brutte del 2020.